È diventata famosa, è diventata famosa nel tempo come un tentativo inizialmente di proteggere il continente nordamericano e anche sudamericano da ingerenze straniere, soprattutto da un fenomeno di neocolonialismo di stampo europeo e poi per una sua interpretazione che in realtà ha dato via a una nuova stagione di neocolonialismo, questa volta di marcato stampo statunitense. Se non avete ancora capito, la puntata di oggi è dedicata a quel documento, o meglio a quella scuola di pensiero, diventata nota come la dottrina Monroe. Ci troviamo all'inizio dell'Ottocento, un periodo di transizione tra l'età moderna e l'età contemporanea. Un'età a volte definita turbolenta, perché d'altronde è l'età in cui in Europa si procede alla restaurazione col congresso di Vienna e che in America vede non solo la grande sfida della frontiera, dello spingersi a ovest, sempre più a ovest, ma anche un confronto tra quello che ancora viene chiamato il nuovo mondo e le potenze europee, che ancora non hanno delle autentiche velleità coloniali, ma che di lì a poco inizieranno a guardare con estremo interesse la situazione di varie parti del mondo, non più solo le Indie vere e proprie, quindi il subcontinente indiano, piuttosto che le Comore, le Molucche, ma l'Africa e anche il Sud America. È un periodo, come detto, turbolento. È un periodo in cui, alla presenza degli Stati Uniti, c'è un uomo, James Monroe, e quest'uomo, questo James Monroe, il 2 dicembre del 1823, quindi appena otto anni dopo l'inizio della restaurazione, otto anni dopo il congresso di Vienna, pronuncia nel corso del suo settimo discorso annuale sullo stato dell'Unione al congresso, alcune parole che passeranno alla storia. Quali sono queste parole? L'occasione è stata giudicata opportuna per affermare, come principio in cui sono coinvolti i diretti e gli interessi degli Stati Uniti, che i continenti americani, per la condizione di libertà e indipendenza che hanno assunto e mantengono, non sono ormai da considerarsi come soggetti per la futura colonizzazione da parte di qualsiasi potenza europea. Queste poche parole, queste frasi a effetto, vengono riassunte in una sioma. L'America agli americani. A dirlo così, sembrerebbe un progetto di libertà. Sembrerebbe voler dire agli europei, non tornate qui con volontà di dominio. Non tornate nel nuovo mondo pensando di continuare a imporvi come state facendo, come avete fatto finora. Lasciate che le varie popolazioni, chiaramente degli ex coloni, non certo degli autoctoni, si autogovernino. Non fate ingerenza, né di tipo politico, né di tipo militare, ancor meno di tipo commerciale. Ognuno deve poter scegliere la propria via. Certo, il discorso di Monroe è estremamente interessante. Letto con gli occhi di oggi, ormai sono passati quasi 200 anni, è chiaro, sembra un discorso di stampo anticolonialista, discorso liberale, diremmo oggi. Ma per quale motivo allora la dottrina Monroe è passata da essere uno spunto quasi liberale a un punto d'appoggio per una politica neocolonialista di stampo imperialista? Perché quell'America agli americani, che doveva appunto dare la possibilità ai vari figli, nipoti, pronipoti dei coloni, di sviluppare dei nuovi stati completamente autonomi rispetto alla vecchia Europa, quel tempo è diventata l'America, inteso come continente, agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono sentiti autorizzati a decidere le sorti di ogni stato postcoloniale a nord e a sud dell'Equatore per quanto riguarda il continente americano. Sono poche le eccezioni della dottrina Monroe. Maggiore eccezione ovviamente è il Canada, perché il Canada mantiene lo status di dominion britannico. Ancora oggi, formalmente, il Canada è soggetto alla corona inglese all'interno del Commonwealth. Certo, il capo di Stato è un delegato del sovrano, oggi è da poco salito al trono Carlo III, fino a poche settimane fa era la regina Elisabetta, ma sostanzialmente il Canada è retto da un sistema parlamentare e da un primo ministro, che certo si confronta con la Gran Bretagna, ma una certa autonomia di indirizzo politico e soprattutto di azione. L'altra eccezione alla dottrina Monroe è rappresentata dal Messico. Un Messico con cui, tra l'altro, gli Stati Uniti saranno anche in guerra. È un Messico che viene visto inizialmente come un bellicoso vicino, anche se la Spagna cerca di riprendere, sono almeno in occasione, e poi viene visto come una sorta di vicino a volte riottoso, a volte collaborativo, a volte utile, a volte fastidioso. Ma tutto sommato, non rientra nella necessità di una tutela forzata o forzosa da parte dei Stati Uniti nel nome di una interpretazione molto, molto particolare della dottrina Monroe. Potremmo quasi dire che la dottrina Monroe vede la sua prima applicazione negativa appena dieci anni dopo la pronuncia del discorso del presidente Monroe. È il 1833, quando gli inglesi mantengono la sovranità sulle isole Falkland, quella che per gli argentini sono le Malvinas, e che verranno parecchi anni dopo, quasi un secolo e mezzo dopo, contese in una guerra, di cui, tra l'altro, abbiamo già parlato, e vi rimando al video appunto relativo. Ebbene, se davvero gli Stati Uniti intendevano svolgere il ruolo di nome tutelare della libertà e dell'autodeterminazione dei popoli americani, perché in quell'occasione, quando gli inglesi riaffermarono la loro presenza alle Falkland, gli statunitensi non appoggiarono l'Argentina. Anzi, lasciarono che l'Argentina fosse isolata dalla Royal Navy e dalla Marina Francese, che d'accordo decisero di istituire un blocco navale, piuttosto pesante, che limitò parecchio i movimenti e anche l'economia dell'Argentina. Per quale motivo? Evidentemente perché gli Stati Uniti avevano già interpretato la dottrina Monroe come un diritto a decidere come arbitro le sorti del continente americano. Ma andiamo avanti nel tempo. La dottrina Monroe nel frattempo viene affiancata da altre tendenze espansionistiche degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti infatti non si fermano al continente americano, non si fermano al Centro America, al Sud America, ai Caralbi, assolutamente. Guardano al Pacifico, un'espansione costante che tocca l'apice nel 1853, quando il comodoro Matthew Perry viene inviato al comando di una squadra di quattro navi da guerra, affinché entri nel porto della Baia di Tokyo, la allora Edo, per forzare la fine dell'isolamento internazionale che il Giappone si era autoimposto, per costringere il Giappone a entrare nell'era contemporanea e dunque per ampliare gli spazi commerciali di una economia in forte espansione, economia soprattutto produttiva in forte espansione, come quella statunitense. È un atto, potremmo chiamarlo, di neocolonialismo. Certo, un neocolonialismo non di stampo classico, non è un neocolonialismo conquistatore che prevede di prendere con la forza delle terre e installare dei propri governanti. È un neocolonialismo di stampo prettamente economico, costringere i paesi vicini a dialogare con gli Stati Uniti da una posizione di leggera sudditanza, accettando le condizioni economiche per gli scambi commerciali volute proprio dagli Stati Uniti. È una nuova arma, potremmo dire, nell'ambito di una guerra di espansione non dichiarata, ma evidente. E se la guerra civile americana vede la sospensione momentanea della dottrina Monroe, d'altronde unionisti e confederati si combattono sui campi della battaglia rovinando parte dell'economia americana. E se in quel periodo Inghilterra e Francia appoggiano in maniera anche piuttosto smaccata la confederazione, sperando di una sconfitta di una rivale economica molto temuta come l'Unione, ebbene la fine della guerra civile riporta in auge la dottrina Monroe. dottrina Monroe che viene applicata in maniera sempre più determinante. E non solo per quanto riguarda la questione della Repubblica Dominicana, che era tornata sotto la corona spagnola proprio approfittando della guerra civile statunitense e che aveva visto al contempo le truppe di Napoleone III invadere e conquistare il Messico, installando Massimiliano d'Asburgo come sovrano di Pezza, come sovrano Fantoccio. No, si è andati oltre. Sono andati oltre perché gli Stati Uniti hanno deciso di intervenire in maniera sempre più pesante per riprendersi la sfera esclusiva di interesse geopolitico, militare ed economico dell'area. E questo diventa evidente prima con la presidenza di Ulysses Grant, poi con la crisi venezuelana del 1895 e successivamente con un fatto. Un fatto che si svolge all'Havana, nel porto dell'Havana, nell'isola di Cuba, il 15 febbraio del 1898. Nella notte del 15 febbraio del 1898 una nave da guerra americana, la USS Maine, una corazzata policalibro di vecchio tipo, salta in aria nel porto dell'Havana. L'affondamento del Maine, con parecchie vittime a bordo, suscita immediato sdegno negli Stati Uniti, al punto che al grido di Remember the Maine, to the hell with Spain, ricordate il Maine, mandiamo all'inferno la Spagna, gli Stati Uniti hanno deciso di entrare in guerra contro la corona spagnola. Sarà la cosiddetta guerra ispano-americana, una guerra che non solo ridurrà per sempre l'influenza spagnola, strappando alla corona gli ultimi due possedimenti al di fuori di Europa ed Africa, cioè Cuba e le Filippine, che vengono trasferiti agli Stati Uniti sotto forma sostanziale di protettorati. Sarà molto di più. Da quel momento in avanti, dall'affondamento del Maine, della guerra ispano-americana, gli Stati Uniti si sentiranno autorizzati a mettere delle proprie ipoteche su qualunque crisi o accenno di crisi in tutto il subcontinente sudamericano e nella zona di Panama. Panama dove tra l'altro avviene il taglio dell'istmo e inaugurazione di un canale, un canale che per diversi decenni viene amministrato direttamente dagli Stati Uniti, con un'amministrazione mista, fiduciaria, civile e militare. Panama diventa quasi l'emblema, il vessillo della dottrina Monroe, al punto che non ci sono solo gli introiti derivanti dal traffico commerciale, non solo, che passa per le varie dighe attraverso il sistema dell'istmo. No, addirittura le navi per passare attraverso il canale di Panama devono essere progettate in un determinato modo. Gli stessi Stati Uniti ridisegnano le loro navi da guerra proprio perché passino attraverso il sistema del canale di Panama. E questo è un altro esempio della dottrina Monroe applicata come sistema esclusivo, come sfera di influenza esclusiva degli Stati Uniti. E ci saranno altri episodi. Pensate ancora al Sud America, pensate all'Argentina, Cile, Brasile, tre nazioni che all'inizio del Novecento rischiano seriamente di scivolare verso un conflitto. Un conflitto dettato esclusivamente da motivazioni economiche, da quello che viene definita la guerra dei minerali. Le attività estrative dei tre Stati finiscono al centro del mirino dei mercati internazionali. C'è una corsa agli armamenti all'inizio del Novecento, un po' in tutto il mondo. Un mondo che correrà a perdifiato verso l'imbuto della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. E quella che diventerà nota come la guerra del Sanitro, dal nome proprio dell'elemento utilizzato spesso e volentieri per innescare gli esplosivi, porterà Brasile, Argentina e Cile a una nuova corsa agli armamenti, di tipo navale. Da qualche anno è stata presentata la HMS Dreadnought, la prima corazzata monocalibro al mondo. La prima nave moderna da guerra. E in funzione di questo, queste tre nazioni, che tanti immaginano essere overe o comunque al limite della tecnologia, ordinano nuove navi da guerra. E a chi le ordinano? Il Cile si rivolge alla Gran Bretagna. E alla fine otterrà la sua nave, anche se in grande ritardo. L'almirante da Torre verrà consegnata solo negli anni venti a Grande Guerra Conclusa, guerra del Sanitro disinnescata, eccetera, eccetera. Argentina e Brasile si rivolgono agli Stati Uniti, dopo aver indetto una sorta di gara d'appalto internazionale, qui partecipa anche l'Italia, per la fornitura di armamenti navali. Le flotte diventano in quel periodo il modo per far pesare la potenza di uno Stato, perché una flotta può controllare le rotte, le rotte commerciali, e quindi determinare il successo o l'insuccesso, addirittura il fallimento, di trattative commerciali. Possono anche determinare la fame per alcune nazioni. Ecco perché tutti investono, in quel periodo, nelle flotte marittime militari. Argentina e Brasile si rivolgono alla cantieristica americana, statunitense, per due classi di navi da guerra. La classe Minas Gerais per i brasiliani e la classe Rivadavia per gli argentini. Vengono consegnate queste navi, ma per fortuna non ci sarà bisogno di utilizzarle. Ci sarà un accordo tra le varie nazioni. Ma anche questo è un sinonimo della dottrina Monroe. Dottrina Monroe che diventerà ancora più pesante nel secondo dopoguerra, dopo il 1945, con interessi americani, pensiamo a quelli della United Fruit Company, che vengono sponsorizzati e accompagnati dal governo di Washington, tanto in Centro America quanto in Sud America. L'America vuole banane a poco prezzo. Il governo americano appoggia la United Fruit Company per delle piantagioni estensive, a bassissimo costo, che distruggono le economie di interi stati del Centro America, ma fanno risparmiare agli americani il costo della frutta fresca. Cuba diventa non solo un'isola succursale di Las Vegas, un casino con locali notturni e con la presenza della mafia. Diventa anche un'enorme piantagione di canna da zucchero. E anche dopo la rivoluzione castrista i cubani non riusciranno a rinunciare alla canna da zucchero, al punto che l'Unione Sovietica, subentrata nel ruolo di garante di nome tutelare di Cuba, arriverà ad acquistare l'intera produzione annua di canna da zucchero, pur non facendosene niente, per sostenere l'economia cubana che altrimenti andrebbe a rotoli nel battito di ciglia. E pensiamo anche a un altro argomento che abbiamo già trattato. L'operazione Condor, la volontà degli Stati Uniti di interferire in ogni processo democratico del Sud America, riuscendo di volta in volta a spodestare con armi non convenzionali come sono i rovesci di borsa o quasi convenzionali come sono i colpi di Stato militari. Tutti quei governi che vengono giudicati non abbastanza amichevoli o addirittura ostili. È il caso ad esempio del Cile, di Salvador Allende, che viene rovesciato dopo un periodo molto turbolento, semplicemente per due motivi. Perché il Cile ha voluto nazionalizzare l'industria del rame, necessaria alla International Telephone and Telegraph per il proprio business, e non ha voluto sottostare al mercato del trasporto su gomma deciso dagli Stati Uniti. Ecco spiegato l'appoggio degli Stati Uniti al golpe di Augusto Pinochet. Ma di questo parleremo in un prossimo video che mi invito a non perdere assolutamente. Immaginiamo anche il cambio fisso del dollaro con sostanzialmente tutte le divise nazionali del Sud America. Un cambio fisso che ha distrutto le economie monetarie del Sud America. Al punto che quando l'Argentina ha deciso di staccarsi dal cambio fisso col dollaro, la propria moneta è crollata e i suoi bond sono diventati spazzatura. Questi sono i contraccolpi della dottrina Monroe. E li vediamo fino ai giorni nostri. Perché quando una potenza, qualunque essa sia, decide di amministrare in via esclusiva gli interessi di un'intera area, ponendosi come tutela, a volte assolutamente non voluta, di altri governi, è chiaro che fa solo i propri interessi, non gli interessi altrui. E questo deve essere di monito a tutti noi, a prescindere da come la pensiamo. Che si sia filo americani, filo russi, filo europeisti, filo cinesi. Non importa. Ogni volta che una grande potenza decide di mettere sotto tutela un gruppo di nazioni piccole o emergenti, non c'è nulla di cui stare tranquilli, non c'è nulla di cui gioire. Anzi, c'è solo da preoccuparsi. Perché significa che una nuova stagione triste di neocolonialismo è dietro l'angolo. Grazie. 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 Grazie.